ELEZIONI COMUNALI DI RIONERO IN BULTURE Elezioni comunali che vedranno, come vi ho detto, nel servizio, in un servizio precedente in cui ho fatto una sorta di sommatoria degli accadimenti, che vede una frammentazione di liste, dicevo, Rionero ne ha circa il doppio, quasi il doppio rispetto a quelle che avrà una cittadina più grande come Melfi, sia come sia, dopo la frammentazione del PD, dopo le varie spaccature o comunque stati d'animo non calmi che si sono avuti nei 5 Stelle, una ambiguità in quella che viene chiamata lista di centrodestra, ma nella quale mancano pezzi pregiati del centrodestra stessi, come un buon trequarti della Lega e completamente Forza Italia. Comunque si è arrivati a una composizione di liste. Questa sera abbiamo con noi Nicola Locoro, candidato sindaco per che lista, Nicola? Presentacela tu. Allora, la nostra è la lista Unione Civica per Rionero, nasce da un'iniziativa che parecchi mesi fa un gruppo di amici appreso insieme con me per costituire un'aggregazione civica fatta di giovani persone che non hanno mai in passato ricoperto ruoli amministrativi, quindi mai ricoperto ruoli di gestione nella vita pubblica rionerese e proprio per dare un forte segnale di rinnovamento della classe dirigente e nello stesso tempo anche di discontinuità rispetto all'attuale operato dell'amministrazione comunale in carica che noi riteniamo, raccogliendo anche un po' il giudizio che è in larga parte diffuso nell'opinione pubblica rionerese, noi riteniamo che sia un'amministrazione comunale che negli ultimi 5 anni non ha affatto risposto alle esigenze anche quelle più immediate della collettività rionerese e quindi diamo un forte giudizio negativo sul piano amministrativo dell'operato di questa amministrazione. Nicola, mi dicevi una lista composta da gente nuova, molti giovani, ora non credi che possa essere, non dico un errore, ma possa avere un che di controproducente, avere una lista composta, come hai detto tu, di persone che non hanno esperienza amministrativa, nel caso in cui vinceste, io te lo auguro di vincere, ma nel caso in cui vinceste e poi bisognerà amministrare e se una persona non ha pratica ad amministrare, non credo possa bastare il solo candidato sindaco, che in quel caso sarebbe sindaco eletto, che ha una qualche cognizione di amministrazione a poter gestire una macchina amministrativa burocratica come quella di Rionero che ha 10 mila problemi, spiegami tu. Io non credo che si ponga questo problema, perché intanto la nostra lista è composta da tutta una serie di persone, uomini e donne, che sono già professionalmente impegnate nella società civile, ma anche sul piano occupazionale in vari settori, noi spaziamo da quello delle attività produttive, a quello del pubblico impiego, ai liberi professionisti, quindi hanno già per conto loro singolarmente dimostrato anche di avere una capacità professionale, ognuno del pubblico, nel proprio ambito e io credo che questa sia una linfa vitale per poi un ulteriore impegno sul piano amministrativo, perché ognuno porta le competenze, porta l'esperienza e quindi anche la sua professionalità al servizio dell'istituzione comune di Rionero e quindi della collettività di conseguenza di Rionero. Credo inoltre che lanciare una nuova classe dirigente sia ormai diventato un'esigenza fondamentale per la nostra città. Io anche girando in questi giorni avverto questa forte volontà da parte dell'opinione pubblica rionerese di puntare su persone nuove dal punto di vista amministrativo, nel senso che persone che non abbiano responsabilità dello stato di degrado, di abbandono in cui versa la nostra città. Credo che questo gruppo di giovani, perché abbiamo puntato soprattutto su tanti giovani che hanno inteso impegnarsi nella nostra lista in questa competizione elettorale, questo gruppo proprio perché è animato da un forte entusiasmo di voler contribuire con le proprie idee, con le proprie capacità alla risoluzione delle problematiche purtroppo ormai annose di questa città. Io credo che sia un buon viatico per una nuova amministrazione comunale e sia soprattutto davvero una risorsa preziosa per Rionero avere un gruppo di giovani volenterosi, così entusiasti di impegnarsi per i bisogni e per i problemi della nostra gente. Abbiamo parlato dell'aspetto teorico della vicenda, restiamo sempre nell'ipotesi che ti avevo fatto, la tua lista civica, la lista civica capitanata da te, vince le elezioni, teoricamente abbiamo appreso quella che è la tua idea di come far funzionare la macchina amministrativa. Andiamo all'aspetto pratico, Rionero, come intendi affrontare la situazione di Rionero? Intanto lo dicevo prima, questa è una città che ormai per responsabilità amministrative che ritengo non siano soltanto addebitabili all'ultima amministrazione comunale, ma certamente affondano radici almeno negli ultimi 10-15 anni di vita amministrativa. Io ritengo che sia una città dove una serie di problematiche vanno affrontate finalmente con passione da un lato e con vigore dall'altro. Iniziamo innanzitutto dalle esigenze più immediate che i cittadini di Rionero ci presentano parlandoci insieme e sottopongono alla nostra attenzione e quindi la necessità di avere una sistemazione anzitutto delle nostre strade principali. Da affrontare come? Beh, già nella precedente intervista che tu mi hai fatto, ho fatto riferimento alla possibilità di poter utilizzare da un lato quelli che saranno i fondi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, basti pensare che ben 80 miliardi di Euro saranno destinati ai comuni nell'ambito delle risorse complessive che tu sai ammontano a 210 miliardi di Euro. Quindi, nell'ambito già di questa fetta di risorse, noi certamente avremo la possibilità di presentare una serie di progetti finanziabili in vari settori della nostra vita comunitaria e stavo dicendo non solo attraverso il Piano Nazionale, ma anche attraverso una serie di progetti che noi potremo presentare ad enti come la Regione, ma anche utilizzando normative di natura di carattere nazionale e persino di carattere comunitario a livello europeo. Quindi, i fondi io ritengo che ci sono, però senza una vera, senza un'adeguata progettazione, come purtroppo è mancato negli ultimi anni da parte dell'attuale amministrazione comunale, senza una vera progettazione noi non potremo mai accedere a determinate risorse a cui pure tanti altri comuni della Basilicata negli ultimi anni hanno fatto riferimento e hanno risolto tutta una serie di problemi. io accennavo all'inizio alle strade, ma ci sono anche altri che guardano ad esempio il rilancio delle attività produttive, noi abbiamo bisogno di dare a tutta una categoria di artigiani, di commercianti che noi abbiamo a Rio Nero, una prospettiva, una prospettiva di rilancio socio-produttivo delle loro attività. Noi dobbiamo dare anche spazio, un maggiore spazio a quelle che sono le attività culturali nella nostra città. Io anche nella precedente intervista accennavo a una rete fattiva tra le varie associazioni culturali, teatrali che ci sono nella nostra città che hanno bisogno di un supporto fondamentale anche da parte dell'ente comune per le loro attività. Dobbiamo rilanciare la fondazione Giustino Fortunato, io ho notato che appena un mese fa è stato rinnovato il comitato direttivo e il comitato scientifico, ma per dieci anni questa fondazione è rimasta soltanto sulla carta, quindi non ci sono state assolutamente attività di un certo tenore e anche qui c'è una responsabilità degli attuali amministratori perché potevano già da anni favorire tutta una serie di attività che la fondazione Fortunato avrebbe potuto portare avanti. La stessa biblioteca, la biblioteca comunale ha bisogno di essere lanciata attraverso una serie di progetti con le scuole, abbiamo il problema traffico a Rio Nero che in alcune ore di punta specialmente diventa un serio problema per gli automobilisti e quindi anche qui c'è bisogno di un nuovo piano traffico, di una nuova segnaletica anche verticale e tra l'altro c'è bisogno anche di un piano che per esempio riguardi il decoro urbano, così come anche il problema ad esempio di una piazza Piazza Giustino Fortunato molto più vivibile che certamente ha perso la sua natura di punto di aggregazione nella nostra città, non è più la piazza di un tempo perché urbanisticamente io ritengo non certamente adeguata e poi perché c'è bisogno anche di una sua maggiore illuminazione, c'è bisogno anche che questa piazza anziché dotarsi di queste presunte luci architetturali invece aveva bisogno di ben altro sul piano complessivo e quindi anche dell'illuminazione che di sera specialmente tutti vediamo essere abbastanza oscurata nonostante queste colonne che hanno messo di luci, ma oltre questo c'è il problema Monticchio, noi abbiamo… Scusami Nicola, io del problema Monticchio ne parlerei dopo, non perché non voglia farlo, ma io devo farti comunque un'obiezione, nel senso che queste tematiche che hai trattato sono tutte importanti, poi ho toccato una che particolarmente a me quella del mondo associazionistico mi preme in modo particolare, ma io credo anche una cosa, che la gente più che pensare a questi temi che sono importanti, pensi ad altri temi, tu hai trattato quello delle strade, io ti ci aggiungo l'illuminazione pubblica, ti ci aggiungo i marciapiedi, io guarda per la prima volta in vita mia ho visto una cosa che secondo me da striscia la notizia, praticamente se vai su Via Galliano a scendere, a un certo punto trovi ad altezza della ex forestale un segnale, lavori in corso sul marciapiede e un aiuola in mezzo al marciapiede che non consente il passaggio, è la prima volta che in vita mia ho visto una cosa del genere, cioè Rionero secondo me, secondo ciò che noi raccogliamo dalla gente quando stiamo in giro, ha bisogno di normalità e su questa normalità tu cosa mi dici? Come intendi? Io non a caso ho fatto una serie di esempi già prima, tu ne hai fatto qualcun altro come quella della pubblica illuminazione e tutti sappiamo che ci sono quartieri di Rionero in cui periodicamente per parecchi giorni manca l'illuminazione pubblica, quindi sono completamente al buio e questo perché anche lì non c'è stata una manutenzione delle cabine elettriche e tu in qualche servizio che hai fatto per doccia fredda hai fatto riferimento anche alle caditoie, quando purtroppo ci sono temporali molto forti come quelle che abbiamo avuto fino a 15-20 giorni fa e abbiamo avuto queste strade completamente allagate oppure che sembravano dei torrenti in piena nel momento in cui pioveva tanto, quindi questi problemi che possono sembrare di poco conto invece sono molto sentiti dall'opinione pubblica Rionerese perché qui non si tratta di amministrare una grande città come Bari, Napoli, per non parlare di Roma, Milano, qui si tratta di amministrare un centro con circa 14 mila abitanti che ha certamente una serie come dicevo prima di problematiche ma con una classe amministrativa responsabile che ogni giorno si impegna per il sociale, io qui voglio dire una cosa che è un altro fiore all'occhiello del nostro programma che poi stamperemo e daremo anche all'opinione pubblica rionerese in via cartacea, un altro fiore all'occhiello è il rapporto con i cittadini, il rapporto tra amministrazione comunale, tra istituzione pubblica e cittadini che purtroppo manca da tanti anni in questa città, c'è stato uno scollamento tra il palazzo e la piazza, tra l'amministrazione comunale e i cittadini e questa la dimostrazione l'abbiamo avuto che su una serie di temi importanti, anche ad esempio il bilancio che il Consiglio comunale approva ogni anno, il bilancio del Comune, ormai sono parecchi anni che non viene più discusso con le categorie sociali, produttive, ripeto in un incontro pubblico con la cittadinanza, noi ad esempio abbiamo intenzioni di istituire una conferenza permanente delle forze sociali, economiche, produttive e culturali che ci sono nella nostra città, per poter confrontarci con queste categorie, queste forze, queste associazioni sui temi più importanti della vita pubblica rionerese. Faccio un altro esempio, abbiamo la necessità, visto che ormai ci sono voluti tanti anni per abbattere l'edificio scolastico lì al piano regolatore e anche rispetto a questi ritardi l'amministrazione comunale attuale ha grosse responsabilità, ma io dico oggi abbiamo la necessità certamente di ricostruire e quindi un nuovo edificio scolastico, ma mi chiedo e chiedo anche ai cittadini di Leonì, ma quando mai questa amministrazione comunale ha pensato ad un confronto pubblico sul progettazione di questo nuovo edificio scolastico? Era un'occasione anche quella per confrontarsi con i cittadini, per dire noi dobbiamo abbattere questo edificio per una serie di problemi strutturali, però abbiamo intenzione attraverso questo progetto di fare quest'altra struttura. Noi cittadini oggi, non avendo avuto questo confronto con l'attuale amministrazione comunale su questo tema, francamente non sappiamo, al posto delle macerie che stanno in questi giorni portando via, non sappiamo che tipo di struttura scolastica sorgerà. Quindi ci sono state secondo me dei vuoti, non c'è stato un rapporto stretto, un rapporto non dico quotidiano, ma periodico tra l'amministrazione comunale e la cittadinanza, che avrebbe consentito ai cittadini di fare una serie di proposte sui temi più importanti e anche all'amministrazione comunale di poter fare delle scelte migliori. Guarda Nicola, ripeto, i progetti possono anche essere, sono sicuramente apprezzabili e possono anche essere condivisibili, ma c'è un tema che non viene mai discusso da voi che siete candidati, almeno fino ad oggi non l'ho sentito discutere, dai candidati al Comune di Rionero. Io da un conto molto sommario e ripeto, mi sono tenuto basso, mi sono reso conto che nel solo ultimo anno, in questo 2021, fra debiti, sanzioni da pagare in virtù di sentenze TAR, debiti contratti dal Comune spesso in modo incomprensibile. Io qui ho parlato anche proprio della scuola, di questi famosi appalti per la scuola, soldi persi, che erano a fondo perduto, poi presi, non si capisce bene il perché, già che i 3 milioni che erano arrivati a fondo perduto, a dire dell'amministrazione, erano più che sufficienti a completare la scuola, poi si è andati a contrarre un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti di 700 mila Euro, che non è che parliamo di bruscolini. Non bastasse, io ritengo e mi assumo la responsabilità di ciò che dico, un mesetto fa è venuto fuori un altro debito per 200 e rotti mila Euro per fare un rondò su via Monticchio e trovo scorretto che un'aggiunta che sa di star cadendo, sa che non si candideranno gli stessi soggetti di questa giunta, che vada a contrarre un debito da far trovare a chi dovrà, a chi vincerà. Ora mi chiedo, come si fanno ad affrontare una manutenzione ordinaria, come si fanno ad affrontare un problema spicciolo quotidiano quando il nuovo sindaco, la nuova amministrazione si troverà già con circa un milione e mezzo di Euro, di debiti, contratti nell'ultimo anno. Dove si vanno a prendere i soldi? Sì, è parlato di PNRR, tutto quello che si vuole, ma qui stiamo parlando di problemi spiccioli, non di grossi progetti. Vedi Nicchio, non c'è dubbio che il problema che tu hai toccato si pone, si porrà per chiunque andrà ad amministrare questa città da ottobre in voi, quindi per i prossimi anni. Però io non a caso ti ho fatto riferimento a una serie, oltre che al PNR, ma anche ad un'altra serie diciamo di normative e anche di fondi. Perché? Perché è vero che mi risulta c'è una situazione di ebitoria complessiva di oltre 4 milioni di Euro. Io parlavo solo dell'ultimo anno. Sì, però logicamente noi abbiamo il dovere anche di trovare la strada giusta, mettiamola così, per poter dover affrontare, come dicevo prima, i problemi più urgenti che la collettività di Rio Nero vive quotidianamente. Io credo che anche qui la necessità di una nuova classe dirigente, proprio per segnare una discontinuità, noi vogliamo, questo è il nostro motto, se rinnoviamo, 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 nel senso che diamo finalmente non solo una nuova classe dirigente, ma una cesura netta. Noi vogliamo porci davvero come la discontinuità rispetto all'attuale amministrazione comunale, ma ripeto, se vogliamo andare un po' indietro nel tempo ci sono responsabilità che provengono almeno dagli ultimi 10-15 anni di coloro che hanno amministrato questa città. Quindi noi vogliamo porci come discontinuità anche da questo punto di vista, cioè di mettere al servizio della collettività rionerise le nostre capacità, il nostro ingegno per trovare anche da questo punto di vista i canali giusti sul piano normativo e quindi sul piano anche istituzionale per far fronte ai problemi di questa città. Non abbiamo alternative in Icheo, noi dobbiamo fare di tutto per affrontare, ripeto, i problemi che languono, è il caso di dire, sottolineo, languono da tanti anni in questa città. Faccio un altro esempio, tu mi hai detto non parliamo di… No, volevo proprio parlarti di questo ora, se stai andando su Monticchio per intenderci. Ti ho bloccato prima per un motivo, noi ce ne siamo occupati come testata e ti dirò nel momento nel quale abbiamo fatto un servizio su Monticchio, ti posso dire dalle visualizzazioni che abbiamo registrato, sicuramente Pino è stato il più seguito, ha superato le 6 mila visualizzazioni, il che vuol dire che il problema è un problema molto sentito, io ci sono passato in queste sere, perché è vero, il tempo non è dei migliori, ma settembre è sempre così, sono comunque queste le serate in cui gente di Rionero, di Monticchio, di Atella usava andare a Monticchio. Siamo ad inizio settembre, potremmo dire a fine agosto, Monticchio Langue, in virtù secondo me di un piano scellerato che ha chiuso Monticchio, bene, non facciamo entrare le macchine, ma offriamo una soluzione, Monticchio sta morendo, sono riusciti, grazie a queste mosse cervellotiche, nate dalla mattina e portate la sera, si dice che il piano era già vecchio, sì, ma è stato attuato nell'arco di 24 ore, senza programmare nulla. Monticchio sta morendo, ci sono delle altre zone in Basilicata e diciamocela realmente, come il Pantano di Pignola, dove questi problemi non si creano, le macchine ingorgano, ma si pensa a mandare avanti le attività che ci sono là. Monticchio, ripeto, sta morendo, il comune di Rionero, non ho sentito spendere una parola su questa storia, la tua lista, cosa vorrà fare per Monticchio? Io l'ho detto anche questo, anche nell'altra intervista che tu mi hai fatto qualche mese fa, io intanto ritengo che il parco del Vulture, quindi la comunità del parco che è rappresentata da i sindaci non solo di Rionero, ma anche di altri comuni con termini, innanzitutto ha una funzione rilevante nel essere un momento propulsore del rilancio di Monticchio, ma un momento propulsore in un confronto con la regione Basilicata. Ho detto appunto in quella tua precedente intervista a me, che su Monticchio io ritengo che l'amministrazione comunale di Rionero, sia all'interno della comunità del parco, sia autonomamente, può avere un ruolo propulsivo nel momento in cui favorisce da parte della regione Basilicata un progetto di rilancio turistico di Monticchio, così tu citavi il pantano di Pignola, io ti cito Maratea, così come la regione Basilicata ha fatto qualche decennio fa, ma anche qualche anno fa, rispetto a Maratea e ad altre località turistiche che ci sono in Basilicata e quindi di aver puntato al rilancio di queste attività finanziando una serie di iniziative che sono partite appunto da quei comuni, sono partite anche da alcuni enti subregionali, quindi così noi possiamo anche per Monticchio trovare il canale giusto, quindi la strada concreta per un suo effettivo rilancio. Io faccio un esempio, perché non immaginare rispetto all'utilizzo dei fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, perché non immaginare di ripristinare, è stato detto tante volte, ma poi di fatto la cosa, la nostra bella funivia che avevamo un tempo, ripeto, utilizzando risorse che saranno date ai comuni e quindi in questo caso anche al comune di Rio Nero, ma logicamente in un contesto comprensoriale e quindi ecco l'aspetto importante della comunità del parco. Perché non favorire anche infrastrutture turistiche sul Monticchio, perché ci sono gli spazi per creare delle infrastrutture turistiche sul Monticchio e quindi anche infrastrutture sportive ad esempio, perché noi non dobbiamo secondo me favorire il turismo mordi e fuggi, che pure benvenga, che pure è importante, ma noi dobbiamo fare di Monticchio una perla attrattiva dove chi ci viene possa fermarsi anche qualche giorno e quindi ecco la necessità di strutture ricettive, di strutture anche sportive per il tempo libero, voglio dire. Quindi Monticchio va rilanciato complessivamente, così come va valorizzato il museo naturale che noi abbiamo a Monticchio, vanno valorizzate le mura di Sant'Ippolito, insomma per dire ci sono una serie di interventi che si possono fare a Monticchio, un altro, termino sul punto, un altro per esempio importante intervento potrebbe essere quello di inserire Monticchio in una filiera turistica attraverso appunto l'APT che comprenda altre bellezze storiche di questa zona e quindi anche monumentali come il castello di Melfi, come il castello di Venosa, come il castello di Lago Pesole e quindi ecco creare un circuito che comprenda anche Monticchio nell'ambito di un piano di rilancio di una serie di località, anche del nostro comprensorio del Vulture. Bene Nicola, io per me mi fermerei qua anche perché avremo altre occasioni, però una cosa devo dirtela perché sono i programmi della nostra emittente, noi seguiremo tutte e quattro le liste, ripeto le liste sono cinque, noi ne seguiamo quattro perché quattro su cinque hanno inteso presentarsi all'agenda, esporre i propri programmi, metterci la faccia e dirci quelle che sono le loro volontà. La quinta lista non ha dato segni di vita, evidentemente non le interessa rendere pubbliche le argomentazioni, ma non voglio fare polemiche. Ora queste, voi quattro che avete accettato questo, noi vi seguiremo, vi verremo a trovare anche nei vostri comitati elettorali perché sarà simpatico poter fare due chiacchiere anche per due minuti con qualche candidato che vi sia, ma soprattutto è nostra ferma intenzione in conclusione della campagna elettorale, fare un confronto con i quattro candidati sindaci. Io sono disponibilissimo. Bene, un'ultima domanda devo farti, convincimi a votare per la tua lista, perché dovrei votare? Come dicevo prima per dare un futuro migliore, diverso alla nostra città e per segnare una forte discontinuità amministrativa con questa amministrazione comunale che purtroppo ha ridotto davvero il paese in uno stato di degrado e di abbandono spaventoso e questo io credo che sia un giudizio che è largamente condiviso nell'opinione pubblica rionerese, poi al di là di quelle che saranno le scelte dell'elettorato il 3 e 4 ottobre prossimo. Bene, termina qui l'incontro di questa sera, perché ne avremo altri, con il candidato sindaco della lista Unione Civica per Rionero, Nicola Locoro. Io cercherò nei limiti delle delle mie possibilità di essere imparziale, ma una cosa personale, io la devo dire, è un appello che ho già fatto e che rifaccio agli elettori, votate per chi volete, scegliete con il vostro razziocinio, con le vostre idee, per favore, una sola cortesia vi chiedo, non scegliete chi votare perché parente, amico, compare, votate per la lista, per i candidati che sembrano darvi la maggiore affidabilità per il Paese, di qualunque lista essi loro siano. Tutto qui quello che ho da dire questa sera, grazie Nicola, ci vedremo presto e buonasera a chi ci ha seguito. Buonasera.